Il fatto di volare nella ginnestica artistica è una cosa che mi fa sognare perché non ho mai pensato di poter volare, diciamo che il mio più grande sogno è volare e niente, questo è volare, la ginnestica artistica Quest'anno di ginnastica è stato, come l'anno scorso, fantastico perché siamo alla seconda esperienza e già le ginnaste e i ginnasti ci hanno dato tante tante soddisfazioni questo è per noi vanto e orgoglio e lo sarà spero per tanti altri anni Le gare di quest'anno sono state la cosa forse fondamentale quello che ha portato rispetto all'anno scorso il progetto ad un livello superiore perché i ragazzi hanno effettivamente visto che questo è uno sport e che non è solamente una disciplina fine a se stessa quindi hanno potuto mettere in pratica tutto quello che hanno imparato e grazie a questo hanno preso anche loro tante soddisfazioni e soprattutto hanno fatto vedere che il lavoro quotidiano e la forza di volontà gratifica sempre Il tema del saggio di quest'anno saranno le colonne sonore del mondo Disney abbiamo voluto associare il fantastico mondo della Disney con il fantastico mondo della ginnastica proprio perché quello che vedono le persone pensano quando vanno a vedere uno spettacolo o una gara di ginnastica artistica è proprio quello di capire come è possibile che questi ragazzi, questi giovani riescano a fare tutte quelle che sono le evoluzioni della ginnastica tutta quella che è l'acrobatica quindi associare il mondo fantastico a questa disciplina per quest'anno era la scelta più idonea questo progetto è nato dall'anno scorso da un'idea della famiglia Il Grande che da 35 anni a Castellaneta porta quelle che sono le discipline sportive e il mondo del fitness ha come obiettivo quello di portare una nuova disciplina sportiva come la ginnastica nel territorio quindi cercare di far avvicinare il più possibile i ragazzi, le ragazze non solo di Castellaneta ma anche dei paesi limitrofi a questo fantastico, richiamando il tema del saggio, mondo ginico faccio ginnastica artistica da inizio settembre, diciamo manco un anno ho scelto questo sport perché mi piace tanto la ginnastica artistica ed è stato sempre il mio talento e quando riesco a fare una cosa posso mettere tutto quello che sento dentro quella cosa quest'anno è stato un bellissimo anno, mi sono divertita un sacco ho conosciuto un sacco di persone bellissime, fantastiche è stata un'esperienza che volevo fare da tanto e che mi ha permesso di riscoprire ma mi sa bella che pensavo non ci fosse più e quindi è stato molto positivo in generale sono molto contenta di quest'anno per me la ginnastica artistica come prima cosa è passione e poi è un sogno che ho sempre voluto realizzare fin da quando ero piccola e quest'anno ho avuto l'occasione di iniziare quindi sono contentissima di quest'anno voglio dimostrare che bisogna credere nei propri sogni perché prima o poi si possono realizzare al saggio mi eseguirò alla trave, al colpo libero e alle parallele mi piacciono le parallele ho scelto questo sport sia perché era diverso dagli altri anche perché non è quello che fanno tutti anche perché per me è qualcosa di più di giocare con un pallone oppure cose del genere per me la ginnastica artistica è una passione tant'è che l'ho portata persino all'esame di terza media perché appunto mi affascina è uno degli sport più soddisfacenti e più difficili al mondo quindi è niente, mia passione è lo sport che mi piace di più della ginnastica mi piace tanto fare gli esercizi l'esercizio che so fare meglio è il coniglietto mi piace tanto fare la spaccata perché la so fare, è l'unica cosa che so fare meglio voglio fare ginnastica artistica per tutti gli anni ci piace tanto la ginnastica artistica grazie a tutti 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 grazie a tutti